Tutto pronto, si attende il fischio d'inizio del signor Enzo Vesprini della sezione di Macerata che arriva in questo momento. Due uomini in barriera per Carloli. Vediamo se Crociata deciderà di calciare in porta o se come più probabile invece metterà in mezzo questo pallone. Forte e teso, sarebbe ideale. Parte Crociata, è proprio così forte e teso, c'è il gol del Milan! Milan, subito Luca Vido di testa sul primo palo, colpisce subito il Milan. Al ventiquattresimo Luca Vido, allora Oraniero servito sulla corsa, va sul fondo, Crociata in mezzo, Vido di testa, pallone resta lì, toccato da Gabrielli. Altro colpo di testa di Vido, intercettato casualmente da Gabrielli che si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Calcio d'angolo, il pallone nella zona di Elilali, resta lì, poi Locatelli! Dal limite dell'area, 2-0 Milan. Manuel Locatelli al ventisettesimo, raddoppio dei rossonieri. Azione di calcio d'angolo, pallone viene respinto in qualche modo da difesa del Cesena. Locatelli non ci pensa due volte e con il piattone mette il pallone in rete. non salta di testa De Santis, poi il rimbalzo favorisce Raffini. Attenzione perché Cesena ha spazio sulla destra, dove può avanzare, il cross in mezzo, poi Malberti mette fuori, liberando l'aria, sempre di testa. Dall'altra parte però Fabri mette in mezzo il controcross e sul secolo palo arriva il gol del Cesena. 2-1 Severini, poi il pallone è stato deviato da un giocatore del Milan, il pallone però stava già terminando in porta, molto forte. E ributta il pallone in avanti, Cesena che sta giocando ormai così, però nel suo Aca Maradu. Poi Fabri sulla sinistra, va a chiudere a Zosmanovic. Fabri allora si accentra e serve Gabrielli che fa girare palla. Attenzione, poi a questo tocco c'è il gol del Cesena. 2-2, tocco a scavalcare Livieri. E Cesena pareggia al 34esimo. Incredibile ragazzi. Siamo fatti sorprendere da un pallone buttato in avanti. Dai ragazzi, Vassallo prova a sfondare saltando due uomini, riesce a saltare il primo. Non il secolo palo, è messo lì, Bianchimano e la traversa. Che girata di Bianchimano, stampata letteralmente sulla traversa. Scarica su De Santi, siamo tutti su. Pallone in verticale, ribattuto ancora una volta dalla difesa del Cesena, ma c'è ancora Gamaza. Allora Elilali, cambiamo fascia, andiamo a sinistra. Ci proviamo da di lì, ribattuto ancora una volta il nostro cross. Ancora Gamaza però, e ancora Elilali. Torniamo in avanti, sempre sulla sinistra. Dai ragazzi che ce la facciamo. Su così, pallone buttato in mezzo, Agnero e c'è la rete! Rete al 49esimo! Giugno e Agnero, 3-2 per il Milan. E allora è questa l'ipoteca che volevamo. Rete di Giugno e Agnero, Milan 3, Cesena 2. E credo che la partita ora possa essere finita così.